Abbiamo un progressivo miglioramento delle condizioni di salute degli italiani e questo lo vediamo anche dall'allungamento della speranza di vita. Una volta la domanda che ci facevamo era quanti anni avremmo vissuto, oggi la domanda è se viveremo in buona salute e allora un indicatore estremamente importante è proprio la speranza di vita in buona salute. Il dato è di medio di un'età di 58,3 anni in buona salute, quindi in assenza di limitazione di carattere funzionale sulle normali attività quotidiane delle persone con differenze territoriali importanti che sono anche di 10 punti di differenza fra i residenti del Trentino Alto Adige e dell'Emilia Romagna rispetto a quelle che sono invece queste speranze di vita in buona salute da parte ad esempio dei residenti in Calabria e questo ci chiama appunto a risposte omogenee nel territorio sulla qualità dei servizi che offriamo, ma anche sulla capacità di riuscire ad attivare una promozione per comportamenti che migliorano le condizioni di salute delle persone. Ci sono disuguaglianze oltre che territoriali, gruppi sociali anche legati al genere, quindi tradizionalmente in tutta Europa c'è una maggiore longevità delle donne, tuttavia abbiamo elementi ad esempio per quanto riguarda lo stato mentale, perché nella salute dobbiamo considerare non solo quello fisico, in cui le donne hanno invece una posizione di svantaggio con delle cattive condizioni rispetto a quella degli uomini. In generale il degiovanimento, l'invecchiamento della popolazione ci chiamano a responsabilità per dare risposte a bisogni importanti di una quota di popolazione particolarmente fragile, quindi certamente aumenta lo sforzo che occorre fare ai vari livelli per assicurare un accesso nel territorio omogeneo a servizi di qualità socio-assistenziali e socio-sanitari. Certamente oltre alla questione demografica hanno un impatto sulla salute le condizioni materiali di vita delle persone e certamente la lunga crisi ha fatto aumentare le disuguaglianze non solo dal punto di vista economico ma anche della salute. E questo lo abbiamo studiato quest'anno anche nel rapporto annuale in cui abbiamo visto come questo impatto è stato diverso nei diversi gruppi sociali che compongono la popolazione.